20 e siamo al 20 di settembre buona mattinata roberto forti su radio rac i quotidiani con questo tornado devastante colpito nella giornata di ieri quasi chirurgicamente perché lo si è parlato di bombe d'acqua perché in un posto si in un altro non non nel nord italia ma in posti precisi e limitati ci sono delle foto che farò vedere anche questa mattina pubblicate dai giornali partiamo da questo tornado devastante da questo maltempo che come arriva diventa notizia purtroppo non è tanto parlare del più o meno sentiamo caldo sentiamo freddo ma ci sono effetti devastanti tornado devastante case distrutte e paura maltempo una tromba d'aria si abbastè sulla bassa bresciana quasi rasa al suolo bettegno edifici inagibili famiglie sfollate colpita anche la valca monica questo dal giornale di brescia oggi partiamo dai giornali locali perché qui abbiamo brescia e qui abbiamo varese dove un muro d'acqua 170 interventi in un giorno sotto passi allagati hotel evacuato un'auto che è rimasta proprio sott'acqua abbiamo visto brescia abbiamo visto varese ora vediamo corte palasio vicino a lodi la furia del vento scoperchi ai tetti famiglie in difficoltà eccola la tromba d'aria proprio come ce l'immaginiamo con tutta la sua paura che porta per il momento non si segnalano vittime perché poi abbiamo un'altra zona colpita che è il modenese a carpi attorno all'aeroporto di fossoli sette aerei distrutti sulla pista danni per milioni è stato un inferno al pello del sindaco alla regione e governo anche qui abbiamo una foto che proprio mette in risalto la tromba d'aria la furia degli elementi avremmo detto una volta siamo proprio immersi in questa furia degli elementi consoliamoci con lo sport qui abbiamo un tornado invece di altra natura prima di darvi un'altra notizia che arriva dal mondo che ci farà un po riflettere questa è la il tornado sportivo dell'italia che per quanto riguarda lo sport anche se non ha brillato in questo caso nelle olimpiadi come vuole però è riuscito a conquistare gli europei sloveni abbattuta per 3 a 2 certo non fa lo stesso effetto del calcio ma loro come vediamo in foto sono ben contenti sotto c'è questa notizia sul green pass giorgetti difende il green pass letta dice che salvini è rilevante per la lega insomma poi c'è sempre questa bagarre politica fatto sta che il green pass ormai è entrato nelle vene quindi non non fa più tornado secondo me ma fa molto invece questa foto che riguarda le donne di kabul sono senza testa in questa foto perché è una foto emblematica perché queste donne che hanno protestato le vedete come sono anche per quel poco che si può vedere molto borghesi ma non nel senso negativo nel senso che sono donne che dovrebbero andare a lavorare perché dovrebbero andare a lavorare molte di queste che stanno protestando a kabul sono impiegate comunali ma non possono tornare al lavoro nuova stretta kabul le donne non tornano al lavoro le dipendenti pubbliche non sono potute andare al lavoro nella capitale afghana il nuovo sindaco ha chiesto di rimanere a casa i talebani l'hanno ritenuto necessario ritenuto necessario impedire le donne di lavorare per un po' non si sa per quanto ma ha spiegato il sindaco nella città un terzo delle 3 mila impiegati comunali sono donne mi immagino gli uffici il funzionamento degli uffici comunali a kabul però questa foto dice molto queste donne senza testa e sulle prime pagine dei quotidiani oggi non c'è più traccia di violenza le donne invece andiamo sui quotidiani italiani ne sono successe parecchie la scorsa settimana sono indagini ancora in corso sono scomparse però queste donne dalle prime pagine dei giornali vabbè vediamo di cosa si occupano le prime pagine dei giornali corriere della sera europa 42 riforme per i fondi siamo già a 42 riforme ormai green pass è passato la la repubblica ripresa i piani di draghi forse stop a quota 100 in pensione prima chi è un lavoro gravoso sono tutte ancora riforme sulla carta la stampa ha un titolo curioso perché dice esso essere dei presidi torna l'incubo dad non sarà successo andiamo a vedere ma nel sottotitolo nella pancia ma anche in alto si parla di tutt'altro tensione nella lega voto di fiducia sul decreto green pass da oggi la terza dose dei vaccini per i più fragili questa è questa scuola come come va come come andrà ci sono effettivamente scuole in quarantena c'è una scuola in quarantena dovremmo trovarla poi nelle notizie locali è interessante questa ecostangata di libero che fa una disanima della bolletta dietro i rincarici sono i colossi della finanza internazionale che grazie alla rivoluzione verde stanno moltiplicando i profitti nella bolletta effettivamente noi paghiamo che ho venduto anche energia per qualche tempo nella bolletta molte voci della bolletta riguardano il sostegno al al verde anche se per quanto riguarda proprio procurarsi l'energia anche se questo sostegno uno va a cercarlo va a vedere a volte arriva a situazioni quantomeno discutibili quindi con la nostra bolletta sosteniamo non soltanto non paghiamo soltanto la luce non paghiamo soltanto il gas ma sosteniamo quello che dovrebbe essere l'ecosostenibile che sta diventando sempre più insostenibile però se se è fatto in questo modo il giornale forse ha un po paura invece del referendum e parla di cliccocrazia esplode la febbre del referendum grazie alla firma digitale soprattutto perché si parla della liberazione della cannabis se volete firmare basta il clic digitale il fatto quotidiano invece se la prende quando ci sono poche cose di cui parlare si ritorna un po la politica greta allo scontro e salvino sbando valparti con renzi per spartirsi al colle sono quello che 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 viene che viene raccontato queste sono le varie visioni c'è una visione anche della verità che è anche vera invece sul green pass nel senso che poi siamo noi a doverlo controllare non è green pass da pazzi dice la verità scaricano pure i controlli sulle famiglie anche ieri qua a piacenza c'era una una fiera si accedeva con green pass che non veniva però controllato controllo doveva essere era nell'aria se uno poteva essere fermato come si fa col controllo qualità campione magari però pare che questo green pass abbia dato un balzo avanti ai vaccini comunque quindi abbia contribuito vediamo come andrà nei prossimi giorni perché già c'è chi è dubbioso il tempo dice era meglio scegliere moderna perché l'italia a aveva scelto ha puntato su pfizer e ora scopre che dopo 120 giorni protegge al 77 per cento mentre moderna dovrebbe proteggere al 92 per cento certo sono i dati del seno di poi perché i vaccini comunque hanno avuto questa sperimentazione veloce che che se ne dica così è quindi dovremmo affidarci con a questi numeri e scoprirlo e scoprire dopo che forse uno era meglio dell'altro certo sarebbe bello anche aggiustare il tipo il tiro durante ma qui gli interessi sono troppo grandi ognuno ha proprio il proprio interesse da portare avanti terza dose del resto del carlino ecco quando calano le difese in israele proprio si parla ormai di terza dose che pare stia comunque funzionando ma salutiamo adesso questa mattinata una nuova entrata di questo nostro radio rack quotidiano di questo racconto dei quotidiani perché con noi abbiamo anche cronaca vera e apro la pagina facebook di cronaca vera per una notizia inquietante però è da leggere è da conoscere non è una prima pagina ma è una storia vera che riguarda una famiglia riguarda il fatto di essere convinti di qualche cosa e riguarda poi una tragedia perché questa persona ha ucciso i figli la vera storia del complottista che ha ucciso i suoi figli avevano il dna dei rettiliani matthew taylor coleman un fanatico delle teorie del complotto assassina i suoi due figli quando lo hanno fermato confessato ha dato motivazione delirante erano rettiliani l'uomo che era un insegnante di surf era convinto che avessero ereditato il dna dei serpenti della mamma le convinzioni a cosa ci portano chiudiamo con lo sport grazie a stefano mauri grazie a fronte del blog con una juve secondo stefano poco convinta finisce in parità il big match tra juventus che non sa più vincere e maturi rossoneri io voglio chiudere invece con voi con le vostre notizie con la vostra partecipazione a questa apertura della mattinata cosa cosa avete in mente qual è la vostra notizia o cosa vi è successo che volete far risalire risaltare in cronaca scrivetelo a info chioccio la radio raccontiamoci punto net perché noi come radio raccontiamoci cerchiamo di raccontare voi la vostra verità cerchiamo di raccontarci un po tutti di essere la voce veramente di tutti quindi grazie cronaca vera che si è unita nel diffondere questo post nel diffondere questa mattinata questo radio racconto del mattino e grazie a tutti quelli che lo fanno girare fateci girare e avremo più notizie da raccontare per voi